Come potete vedere dalla mia tavolozza, sto creando il rosso mescolando magenta e giallo. Il rosso secondario è un rosso che va verso l'arancione. Non è un colore semplice da realizzare. Una raccomandazione importantissima. Prima di cominciare a mescolare questi altri due colori, il giallo e il magenta, dovete pulire con grandissima attenzione e cura il pennello. Non deve rimanere nemmeno la più piccola traccia di verde, altrimenti rovinerete tutto il lavoro. Io per essere sicura, al 100%, ho lavato sotto il rubinetto il mio pennello usando anche un po' di sapone liquido. Ovviamente poi dovete sciacquarlo molto molto bene e cambiate anche l'acqua. Ecco qui. L'acqua, vedete, ho cambiato l'acqua in modo che sia proprio perfettamente pulita. Perché i colori che andrò a generare adesso devono essere assolutamente puliti. Non deve esserci la minima traccia del colore blu in queste mescolanze. Ecco qui, vedete, ho dipinto questo triangolo con il rosso. Ecco, si chiama rosso il colore secondario, mentre il rosso primario prende proprio il nome di magenta. E molto spesso il magenta viene confuso con il fucsia, invece ha una sfumatura levemente diversa. Il rosso, invece, è un colore secondario creato appunto dalla mescolanza tra magenta e giallo primario. E nel disco cromatico di Itten va a riempire questo triangolo adiacente agli spazi del giallo e del magenta. E questo settore nel disco. Come ho fatto prima, andrò adesso a creare i colori terziari mescolando il mio secondario con il giallo. E quindi otterrò un arancio molto chiaro, molto luminoso. E qui, invece, verrà un rosso un po' più scuro. Più vicino alla tonalità del magenta. Ecco qui, adesso ho finito anche con i rossi, perché ho creato anche questo colore, che sta appunto tra il rosso e il magenta. Molto spesso a scuola i ragazzi mi chiedono in continuazione se il colore che hanno preparato sulla tavolozza va bene oppure no. Ecco, per capire se il colore che avete fatto va bene, vedete io come sto procedendo? Sto procedendo in circolo anche sulla mia tavolozza. In questo modo ho sempre il confronto tra il colore che sto creando e quello vicino. Il colore che sto creando deve essere una mezza via tra i due colori ai due lati, ok? Quelli che ho usato per formare questo colore. Se voi mantenete la giusta distanza tra i colori primari e in mezzo tra uno e l'altro componete il colore secondario e poi i due terziari, vedrete che sulla vostra tavolozza a un certo punto si creerà una specie di disco cromatico di itten, però un po' disordinato, un po' a macchie. Ed eccoci arrivati all'ultimo colore secondario e che è il viola. Lo abbiamo tenuto per ultimo perché, come vi ho spiegato all'inizio, è anche il più difficile sia da comporre che da stendere. Questo perché il viola con i suoi terziari sono i colori più scuri del disco cromatico di itten. Mentre sto stendendo il viola, vi volevo anche parlare delle coppie di colori complementari. Sì, perché questo schema inventato dal professore itten è fatto in modo tale da ricordarci anche quali sono i colori che tra loro sono complementari. Perché? Perché sono quelli che si trovano agli estremi opposti del disco. Quindi abbiamo, vedete, il viola, quello che sto dando adesso, è il colore complementare del giallo. Perché si chiamano complementari? Perché se io mescolassi assieme il viola, che vi ricordo che l'ho ottenuto mescolando assieme cian e magenta, e lo mettessi assieme al giallo, cosa succederebbe? Beh, teoricamente dovrebbe uscire il colore nero. Perché mescolando tutti e tre i colori primari assieme, teoricamente dovrebbe uscire il colore nero. Dico teoricamente perché in realtà se ci provate, magari poi alla fine quando avete finito tutto, potete anche fare una prova, mescolare assieme tutti e tre i colori primari. Si ottiene un colore molto scuro, molto sporco, non è esattamente un nero, è un colore abbastanza indefinito. Questo perché? Perché i colori che noi abbiamo nei nostri tubetti, questi qui, sono creati a partire da sostanze chimiche, le quali mescolandosi tra loro hanno delle reazioni, quindi non sono solo colori che si mescolano, ma anche tanti tipi di sostanze diverse, che quindi non è detto che interagendo tra loro formino esattamente il colore che noi abbiamo trovato. pensato nella nostra testa. Ad ogni modo, cosa succede se io sporcassi di giallo il mio viola? Verrebbe un colore bruttissimo, una sfumatura di viola brutta, appunto perché i due colori tra loro complementari assolutamente non devono mai essere mescolati tra di loro. Per cui è importante ricordarsi quali sono le coppie dei colori complementari. Quindi, mai mescolare il magenta con il verde, mai mescolare il rosso, il rosso arancio, con il cian, perché sono tra loro colori complementari. e quindi non è affatto una buona idea mescolarli tra loro. I colori che si ottengono sono colori che in gergo pittorico si dicono colori sporchi. ed è anche questo il motivo per cui vi ho raccomandato di pulire sempre in maniera perfetta il pennello ogni volta che cambiate il settore del disco cromatico e andate a fare un altro colore secondario perché appunto se vi rimane sporco di rosso arancio il pennello vuol dire che dentro il rosso arancio c'è anche del giallo. Se io poi con un pennello sporco anche in minima parte di giallo se lo vado a fare il viola mi verrà un colore orrendo. I terziari del viola sono praticamente un blu, un blu notte, che andrà messo qui e qui praticamente verrà un colore tipo porpora quindi un viola appunto che si avvicina molto di più al magenta mentre qui deve venire dalla mescolanza tra il cian e il viola un blu scuro. ed eccoci arrivati all'ultimo colore che è il terziario che va messo qui tra il magenta e il viola è un colore non facilissimo da ottenere bisogna dosare molto bene i colori in modo che non sia troppo simile al viola perché ricordatevi sempre che quando si mescolano tra loro due colori quello che diciamo ha il sopravvento sull'altro è sempre il colore più scuro quindi bisogna avere un attimo di accortezza e usare molto poco viola in modo tale che non abbia il sopravvento sul magenta e questo colore non diventi troppo scuro nel frattempo vi sarete accorti che man mano che io procedo nel mio lavoro gli altri colori si stanno asciugando e assumono una tonalità più chiara meno lucente, più opaca e quindi i colori si vedono anche un po' meglio soprattutto i verdi che all'inizio si vedevano veramente male e nemmeno adesso si vedono benissimo io continuo a controllare lo schermo e controllare quello che sto registrando vi assicuro che questo verde soprattutto è molto più brillante nella realtà andrebbe proprio guardato alla luce naturale, alla luce del sole qui purtroppo non ho la possibilità di farlo di farvelo vedere alla luce del sole semmai alla fine proverò a fare una fotografia oppure una scansione del disco cromatico finito in modo tale da farvi vedere quali sono i colori che veramente dovreste ottenere senza tutte queste problematiche di luce io ho quasi finito quindi vi saluto vi auguro un buon lavoro con il nostro disco cromatico di Itten e spero che questo tutorial vi sia vi sia stato utile e a presto spero con altre proposte di didattica di arte e immagine che vi possano essere utili e vi possano piacere ciao ciao grazie a tutti